Grazie. Allora, buonasera a tutti. Stasera parliamo di Natale. Il presepio ce l'abbiamo. Il presepio, la celebrazione, siamo noi, no? Gli attori. Poi vedremo che il presepio era tutta un'altra cosa, ma questo è il piacere della sarata. Se non dice cosa sono venuto a fare fino a qui, no? Buonasera. Bene, allora, il tema è la natività. Le ringrazio a tutti quelli che sono venuti. Voi ringraziate Vincenzo che mi ha gentilmente obbligato a fare questa serata. Dov'è che è andato? Eccolo là. Perché, va bene, bravi. No, lui stimola. E poi altri, questa è una gattavel, però. No, no, è sempre un piacere. Scherzo, scherzo perché è proprio un piacere. Va bene. Allora, la natività. Io ho pensato di, vi do subito la traccia a quel che voglio fare. Passato, presente e futuro. Perché l'evento del Natale è un evento reale che avviene ogni anno. Non è una ricorrenza. È una ricorrenza, ma è una ricorrenza come il mio compleanno. Oggi festeggio il mio compleanno. Sì, ma lo sto festeggiando il mio compleanno. Era l'anno scorso, l'anno prima, l'anno prima. Forse c'è anche l'anno dopo. Quindi il Natale è una ricorrenza che avviene nel corso dell'anno. Che ricorrenza è? Durante il corso dell'anno, noi come uomini, che siamo sulla Terra, tutti quanti, in misura, diciamo, diversa, ma tutti quanti, siamo inseriti in un cammino. Questo cammino si articola principalmente in due aspetti. Un lavoro di crescita interiore nell'incontrare il divino in noi stessi e un lavoro di crescita interiore nell'incontrare il divino in ciò che ci circonda. In altre parole sarebbero i misteri del tempo e i misteri dello spazio. I misteri del tempo erano chiamati anticamente i misteri minori. Quelli dello spazio erano chiamati i misteri maggiori. Questi sono argomenti già da serata, però li ho già finiti. Non sto a dire di più. I misteri del tempo, però, i misteri dell'interiorità, hanno il loro punto fondamentale nel Natale. Quindi il Natale è un momento di, come dire, interiorizzazione di un processo che è iniziato, ha avuto il primissimo inizio dopo San Giovanni, quando le tenebre hanno cominciato ad avanzare. hanno avuto un punto importante a San Lorenzo, hanno avuto ancora un punto più importante con le festività dei morti. Tutto questo è una preparazione. Questa è una preparazione per arrivare al Natale, che è la cosiddetta piccola iniziazione nei misteri del tempo. Per poi proseguire c'è la Candelora, il 2 febbraio, che rappresenta invece una grande iniziazione. Capite che adesso, adesso no, fra una settimana, dieci giorni, la luce comincerà ad aumentare lentamente, quindi nel pieno dei misteri del tempo si sta preparando quell'inizio di luce che avrà il suo massimo a San Giovanni, passando per la Pasqua, che saranno i misteri della luce. Quindi anche i misteri della luce hanno una loro preparazione, una loro illuminazione, ho detta piccola iniziazione, è una grande iniziazione. Questo lo dico così. Quindi nel corso dell'anno noi abbiamo questi due misteri che continuamente si rincorrono. Però non è che finisce uno e inizia l'altro. A metà dell'uno si mette il seme dell'altro. Questo è importante per quel che voglio dire alla fine. Quindi le fasi evolutive non sono, finisco una cosa e poi incomincio a fare una cosa completamente nuova. Non dico diversa, nuova. Ma già nel pieno di una fase si prepara il seme di quella dopo. Questa è una regola spirituale e nel corso dell'anno lo viviamo con le stagioni. Per fortuna, per fortuna siamo nel clima temperato, quindi questo è vivo. Fossimo all'Equatore avremo molta più fatica. Fossimo al Polo Nord, in Groenlandia, questo è proprio Polo Nord, no, ma diciamo climi, diciamo, freddi, quindi uniformi nel corso dell'anno. Queste esperienze faremo molto più fatica. Perché adesso tutti quanti abbiamo il piacere a Natale, un po' di chiudersi, la famiglia, le cose, gli affetti, no? Mentre a Pasqua c'è la gita, la Pasquetta, si dice Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi, no? Sono cose che ci sono in tutti i popoli, ci sarà un motivo. Allora, guardando il passato, io non voglio farvi un passato troppo lungo perché sennò non arriva il futuro, che mi interessa di più. Però la festa del Natale è una festa vissuta pienamente ai tempi di Roma. Le chiamavano i Saturnali, le feste dei Saturnali, che vuol dire Saturno, perché il periodo di Natale, come dire, in questo processo di iniziazione, l'anima umana, più l'anima, in ogni modo l'anima umana, si pone a questo livello, in questa espansione, nella dimensione di Saturno, per cogliere poi l'elemento zodiacale. Perché noi, come primo Adamo, siamo zodiaco. Non so se qualche d'uno ha questi ricordi, diciamo, no? Nella Bibbia si dice che il primo Adamo si chiamava Adam, non Adamo, ed era fatto immagine e somiglianza di Dio. Ci servirà alla fine questo. Il secondo Adamo è stato fatto a immagine di Dio, non più la somiglianza. Se io apro la bocca, c'è nero dentro. Somiglianza vuol dire, allora, immagine vuol dire l'aspetto non esteriore, occhi, naso, ma quando noi diciamo ariete, testa, toro, collo, questa quindi è una morfologia, diciamo così, che era il primo Adamo nello zodiaco, Adam. Ed era immagine e somiglianza, perché era nella luce, le stelle sono luce, le stelle sono luce, sono amore, sono vita. Noi moriamo, abbiamo le tenebre dentro, non sempre ci comportiamo proprio da stella a stellina, capite? Quindi noi abbiamo perso la somiglianza. Il cammino è tornare somiglianti, semplice, perché immagine siamo rimasti somiglianti, l'abbiamo un po' perso per strada. Quindi in questo cammino io posso trovare questa somiglianza lavorando dentro di me, e questo è il periodo che semplificando chiamiamolo natalizio, oppure trovando questa somiglianza attraverso un percorso di riconoscere il divino fuori di me, la natura. E la natura non è di sicuro Natale, ma è l'estate, quindi San Giovanni. Come momenti massimi abbiamo Natale, San Giovanni. gli altri adesso per questa serata non ci interessano. Però abbiamo due punti, uno l'aspetto zodiacale, che ho trattato, ho detto due parole, e il secondo che quando un processo evolutivo, come dire, è arrivato nella sua pienezza, in realtà si sta preparando l'altro. Questo forse è la cosa più importante, perché noi siamo abituati a un po' un pensiero razionale che si fa una cosa, poi se ne fa un'altra. Cioè, una bella persona ordinate, faccio tutto questo, poi pulisco, faccio la seconda, poi faccio la terza. Sì, ma non è evoluzione. Questo è una sequenza nella materia, ma se devo pensare in termini evolutivi, o facciamo così l'evoluzione che va su, capite, quando c'è l'estrema luce si prepara la tenebra, quando c'è la tenebra si prepara la luce. E questo lo sappiamo tutti. Solo volevo sottolinearlo. Bene, allora, i nostri cari romani avevano i Saturnali che duravano dal 24 di dicembre fino a fine anno secondo le varie diciamo così culture arrivavano anche il 6 di gennaio. Più l'aspetto greco perché poi i romani hanno ripreso i greci. E la cosa che mi interessa dire è che questi misteri che quella volta erano tosti perché l'uomo l'iniziando, il discepolo veniva posto in una caverna buia, ci stava lì tre giorni nel buio e quando arrivava la sera del 24 quindi diciamo dal 22, 23, 24 i sacerdoti diciamo dal fondo di questa grotta alzavano dei piatti diciamo d'oro ottone gialli che rappresentavano il sole che nasce con delle candele facevano un po' di luce che si rifletteva e cosa sperimentavano in realtà? Sperimentavano quella che poi nella storia si chiama la festa del sole invitto cioè il sole non morto perché vedi tenebra a tenebra e dici qua muore no, il sole invitto il sole che nasce cosa vedi in realtà? L'iniziando sperimentava la luce del sole ma quale? Del sole di San Giovanni perché quando qui è Natale dall'altra parte della terra c'è piena estate quindi il sole anche nel senso diciamo fisico con le sue radiazioni i suoi neutrini passa alla terra quindi l'iniziazione consisteva nel cogliere nel buio il sole dall'altra parte quindi tutto sta morendo guarda che dall'altra parte in te come dire c'è un sole che nasce questi erano i misteri minori i cosiddetti quindi i misteri del tempo nei misteri del tempo abbiamo il Natale allora ecco i misteri del tempo sono caratterizzati dal numero 7 la settimana i sette pianeti principali i sette colori i sette note e ce lo ricordiamo perché ci servirà dopo ci servirà dopo benissimo allora bene allora abbiamo detto Roma il sole invitto si facevano dei piccoli regalini la gente si faceva dei piccoli regalini a significare i doni che durante Saturnali scendevano dal cielo perché man mano che io ricordo man mano che io mi ricollego queste forze diciamo io vedo te tu vedi me se io mi ricollego tu ti ricolleghi diciamo no ah benissimo guarda quanta gente che c'è stasera quanti amici che da un po' di tempo che non si vedeva penso anche tra di voi ho visto dei dei cortocircuiti di baci a bracci diciamo no e quindi noi in questo momento possiamo reincontrare in un modo più vicino certe entità spirituali che ci fanno da guida è un momento di incontro questo incontro dovremmo entrarci un pochettino dentro in questo incontro perché non è un incontro sono tappe un processo un cammino di incontro preparato da quella che noi conosciamo come l'Avvento le quattro domeniche di Avvento e altre cose seguono di cui la Chiesa Cattolica non parla si è perso un pochettino però troveremo troveremo degli agganci bene allora lasciamo stare i greci lasciamo stare i romani andiamo già ai nostri e voi capite che la la festa la cerimonia del sole invitto il 24 dicembre è diventata la messa di mezzanotte la messa di mezzanotte di Natale non è altro che un riprendere un'antichissima come dire modalità noi diremo oggi pagana diciamo spirituale per incontrare questi misteri interiori quindi hanno solo mentre cambiato l'organizzazione della serata ma l'esperienza dovrebbe essere la stessa se noi ci accostassimo la messa di mezzanotte io siccome c'è una censura implacabile questo vuole essere messo in Youtube quindi in genere scivolo con qualche commento diciamo però il mio consiglio fatevela a casa vostra ecco che così siete sicuri che tutto è un po' più controllato benissimo però noi questa mezzanotte dovremo fare questa esperienza se viviamo le quattro domeniche dell'Avvento in modo corretto perché le quattro domeniche dell'Avvento sono la preparazione per questo momento non posso da zero arrivare all'incontro no anche per incontrarci qui chi ha preso la macchina chi ha fatto avere un passaggio chi ha lasciato il marito davanti alla tv col panino dice arrangiati e buonanotte e così chi se l'è portato dietro ovvero oggi è stata portata benissimo allora lasciamo stare basta non mi interessa altro mi interessa un'altra cosa invece la chiesa ortodossa la chiesa ortodossa festeggia il Natale il 6 di gennaio penso che qualcuno lo sappia e allora lì è sempre dire chi ci ha ragione chi ci ha torto noi siamo di qua quindi abbiamo ragione noi per diritto di posto loro sono di là hanno ragione loro per diritto di posto quello che non si sa io voglio toccare queste piccole cose che fino al 350 dopo Cristo noi diciamo la chiesa occidentale festeggiava il Natale il 6 gennaio quindi il 6 gennaio è il Natale poi perduta la coscienza dell'evento superiore perché il 6 gennaio è 30 anni dopo quando viene il battesimo al Giordano quindi il battesimo al Giordano quando il Cristo è sceso nel Gesù quello è stato segnato come Natale era segnato come Natale il 6 gennaio è venuta anche un'altra cosa quando Gesù è stata la circoncisione di Gesù il 6 gennaio sono tante cose è un'altra cosa che diremo dopo sono tre cose che si uniscono il 6 gennaio ossia vuoi fare qualche cosa nel tempo fatta bene fa la 6 gennaio 25 dicembre è il vecchio culto giusto sbagliato non ci interessa per quello ho detto forse fatelo da soli che sono ancora dentro i binari sono già un po' fuori vero? va bene allora adesso per far contento chi ci ascolta entriamo dentro i Vangeli allora voi sapete che nel Vangelo si parla della nascita di Gesù chi ha una preparazione di scienza dello spirito ha già capito dove voglio andare a finire chi non ha questa preparazione dice va bene Gesù è nato quello ecco quello che bisogna stare più attenzione è che ci sono due Vangeli che parlano della nascita Matteo e Luca e dicono cose profondamente diverse noi siccome come dire Ave Maria scappa via il Vangelo dietro di lui non stiamo attenti alle cose questo si può dire benissimo non prestiamo attenzione però se noi io ce l'ho qui davanti vorrei non leggerle perché ci porta via un po' di tempo no non tutto è la parte della nascita però se noi leggiamo quello di Matteo è nato in una casa e a lui arrivano i tre re magi dopo quello di Luca è quello famoso nato nella grotta con i pastori che pascolavano le pecore e tutto quanto e e poi oltretutto questo non c'è scritto però dallo studio dello Steiner si emerge quello di Luca è nato tre anni prima quindi proprio erano due e queste due linee genealogiche sono rappresentate molto bene proprio nel Vangelo quando parla delle due linee genealogiche Matteo incomincia subito genealogia di Gesù e cita 42 gradini i 42 gradini sono andando su 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 fino l'ultimo da Abramo fino a Davide sono eccetera eccetera fino alla deportazione bene fino quindi sono e Matteo parla da Salomone a Gesù e li cita tutti quanti non fatemelo leggere Luca ne cita 77 ma non da su a giù ma da giù a su Ossia Salomone invece pardon nel Vangelo di Luca dove si cita invece Nathan scusate ho sbagliato ci sono 77 generazioni in salita da Gesù a Dio allora uno è quello di Matteo come dire si differenzia da quello di di Luca per la parte precedente che ci sono perché uno arriva fino a Dio e l'altro si ferma a Abramo quindi il popolo quindi uno cita quello di Abramo cita quella linea ereditaria quella linea genealogica dove qui il discorso è molto ampio ma di modo dove quando quel popolo non era ancora in Palestina ma proveniva dall'Asia perché gli ebrei vengono dall'Asia ha ricevuto una modificazione proprio una modificazione del cervello un'azione spirituale che ha modificato il cervello che ha fatto sì che loro il primo popolo che poteva avere un rapporto con il divino senza nessun supporto fisico per cui nei dieci comandamenti c'è scritto non farti nessuna immagine di Dio né di legno né di pietra né di questo devi arrivare solamente col pensiero quindi una coscienza staccata dai supporti materiali quindi questo è grazie a proprio una conformazione cerebrale che ancora oggi si manifesta prova ne sia che se prendete gli ultimi dieci filosofi o quei della finanza e tutto quanto sono tutti ebrei perché questa modifica gli dà una marcia in più poi la usi per il cammino spirituale la usi per far soldi quella è la tua scelta però se ci guardate sono pochi ma come dire hanno un certo potere bene mentre dall'altra parte abbiamo la linea che da Davide in poi segue diciamo questo elemento che è Salomone allora abbiamo Salomone stasera sto sbagliando da una parte abbiamo Salomone meglio che lo scrivo io obbedisco quindi da una parte questo abbiamo Davide il re da Davide ha due figli uno è Salomone e l'altro è Nathan facciamo così così non mi sbaglio più nemmeno io da Salomone discenderà quindi la saggezza discenderà il cosiddetto che poi viene chiamato Gesù Salomonico perché deriva da Salomone e questo è Matteo dall'altra deriva quello che poi viene chiamato Gesù Natanico perché il riferimento è nata che è quello di Luca benissimo allora perché questo perché i due aspetti la sapienza di Salomone che agiva nel bambino di Matteo e la purezza dell'anima invece totale del Gesù Natanico sono come due qualità che devono arrivare alla massima espressione per dopo unirsi allora questo fa parte delle cose che la prima volta che le senti dici dove sono capitato poi ci sono molti pittori da Leonardo anche che ha rappresentato questa scena dell'incontro benissimo allora l'incontro verrà quando il Gesù di Luca compie 12 anni e viene portato diciamo a Gerusalemme perché dovevano essere censiti censiti siccome la linea di Davide e la linea reale i romani censivano tutti questi qua perché dovevano giurare fedeltà all'impero ed egli controllavano censito nome e cognome quindi so chi sei perché nel popolo ebraico si sapeva che da Davide che era il re dei re doveva nascere il liberatore ecco quindi c'era era una forma di controllo fuori dai denti perché censivano solamente quelli della linea di Davide i pericolosi diciamo l'impero romano lo sapeva e quindi venivano censiti tutti conosciamo quel passo che quando arrivano al tempio bene c'è un buco di storia la madre poi torna indietro dice dove è il bambino con l'altra carovana no l'altra carovana capite una carovana l'altra carovana non lo trova torna su al tempio e lo trova che insegna ai dottori della legge perché l'io di questo bambino qua allora l'io mettiamolo qua che era l'io di Zaratustra l'io di Zaratustra torneremo su l'io di Zaratustra si è spostato e si è unito a questo bambino questo bambino è morto e questo è quello che noi chiamiamo Gesù però questo aveva questo bambino aveva tre anni di più questo era zero e quindi quando sarà il battesimo al Giordano trent'anni dopo c'è scritto che Gesù aveva circa trent'anni perché circa se Luca è stato così bravo che ha scritto settantasette generazioni voi sapete il nome del bisnonno sapete andare indietro per settantasette neanche la terza allora uno che mi trova settantasette generazioni non sa dirmi quanti anni ha quello lì che insomma era un po' importante capite ma ha detto circa trent'anni perché come io aveva l'età del Matteo quindi aveva trentatré invece come altri corpi aveva trenta quindi a un certo punto quanti anni hai circa circa allora questo circa è la precisione non è un'imprecisione benissimo allora per capire ancora questo bisogna capire due cose una della cosa più importante è che il papà di questo bambino si chiamava Giuseppe e la mamma si chiamava Maria e il papà di questo bambino si chiamava Giuseppe e l'altra si chiamava Maria e tutti e due si chiamavano Gesù e questo cosa vuol dire vuol dire una cosa che non sono nomi sono titoli come noi una persona importante diciamo don no in meridione si usa molto quando uno già arriva a una certa età ecco e quindi sono titoli Giuseppe vuol dire è colui che cresce in Dio e quindi tutti quelli che stanno facendo un cammino di iniziazione viene un momento non dall'inizio quando raggiungono un certo gradino vengono chiamati Giuseppe quando arriveranno ancora più avanti saranno chiamati Giovanni perché anche Giovanni è un titolo non sono nomi e questi nomi sono i nomi che iniziano con la G nei Vangeli perché G è l'apertura del cuore quindi Giuseppe Gesù Giona Gesù è Giuda Giacobbe tutti quelli che vi vengono in mente e Maria era il nome che veniva dato le fanciulle allevate nel Tempio tutte le fanciulle allevate nel Tempio si chiamavano Maria perché le fanciulle allevate nel Tempio poi in genere erano spose di altri funzionari dei sacerdoti perché si sposavano quindi erano come dire educate dalle ursoline noi diremo oggi e si comportavano bene in società mettiamola così che ci capiamo quindi sono titoli Giuseppe Maria quindi sono tutti e due Giuseppe vuol dire che era una persona di iniziazione tutti e due e le due Marie erano allevate poi siamo tra i tanti Giuseppe non sono tutti uguali e tra le tante Marie non sono tutte uguali però per capire questo problema cosa succede? che muore un Giuseppe di qua muore una Maria di là e si forma una famiglia per cui da nata c'era solo un figlio la Salomonica aveva fatto altri figli mi sembra cinque se ben ricordo per cui la famiglia diventa una famiglia come si dice adesso allargata per cui c'è l'altro problema dice ma Gesù aveva dei fratelli non si capisce perché c'è scritto fratelli però le hanno fatti diventare cugini no erano i fratelli diciamo fratellasti useremo un termine quindi c'è questa storia qua adesso non interessa questo passo che è un po' come dire un po' difficile da mandare giù perché ci rompe tutti gli schemi che abbiamo in mente che a un certo punto questa nuova famiglia si trasferisce a Nazareth Nazareth sono sempre nomi iniziatici vuol dire il germoglio dove le cose nuove possono iniziare a muoversi Nazareth aveva circa cinquecento abitanti era un centro esseno quindi non era la metropoli e come Giuseppe era un iniziato esseno gli iniziati esseni avevano tre gradi primo, secondo, terzo apprendista pratico e contemplativo i simboli esteriori erano un grembiule una piala da falegname e un martello per cui a noi falegname non era un falegname erano questi simboli questi simboli sono rimasti nella massoneria grembiulino squadra compasso capite capite come le cose poi vanno avanti questo lo dico per mettere ordine in questo aspetto qua da questo momento noi abbiamo la nuova famiglia con un Giuseppe da una parte che c'è scritto che era molto anziano molto anziano di età avanzata età avanzata nel simbolismo vuol dire che aveva fatto tanto cammino spirituale era anche vecchietto perché non fai cammino spirituale a vent'anni e l'altra Maria capite con Gesù chiamiamolo uno più uno e gli altri fratelli a Nazareth benissimo questo dopo il ritorno del 12 anni del bambino al Tempio bene allora questo per inquadrare questa famiglia e adesso bisogna arrivare a quella vediamo cosa ho saltato avevo anche Osiride di mezzo ma Osiride lo lasciamo stare ormai arriviamo va bene vediamo un po' qua guarda quante robe ho già detto bene arriviamo alla nascita allora perché adesso guardiamo quella dell'anno zero questa nascita e questa nascita che ho preparato anche questa se lo sia qua che qua questa nascita se noi la leggiamo con cura e con cura io premetto una cosa che ho dedicato dieci anni del mio tempo ma non da solo a ritradurre i Vangeli prima dal latino poi dal greco perché c'è bisogno diciamo così che c'è bisogno come hanno spostato il Natale dal 6 gennaio al 25 dicembre c'è bisogno di mettere un po' di cose in ordine e ci sono dei particolari delle finezze che stridono ma stridono potentemente alla logica del concetto che viene esposto per cui in genere si dice Luca cosa vuoi Luca era ebreo scrive in greco non lo sapeva bene e sbaglia e quindi si corregge c'è un testo che è il Sinaitico il Vangelo Sinaitico il più antico che ci sia è di circa il 450 dopo Cristo e bisogna fare il riferimento lì non è l'ultimo perdono non è il primo ma il primo speriamo che qualche rotolo prima o poi lo trovino fuori voi sapete che i rotoli di cura li hanno trovati se non sbaglio nel 48 e hanno impiegato e da dopo il 2000 che si comincia qualche frammento a venire fuori perché le cose non sono come normalmente ci vengono presentate tenete presente che ci sono 4000 versioni dei Vangeli chi cambia una parola chi cambia una frase chi la aggiunge vi faccio un esempio la preghiera del Padre Nostro in Matteo detto in ogni modo in Luca è molto più sintetica c'è qualcuno che ha un po' di frequentazione di queste cose o è una novità per tutti beh se leggi in Matteo se ha detto Padre Nostro che sei nei cieli non è papà è eh sì non è padre è papà cioè la parola Abba non vuol dire padre come dire chi è tuo padre no papà è familiare quindi è più intimo no è una piccolezza ci sono altre cose poi che sono un po' diverse anche adesso il Papa si è messo di mezzo questo l'ho messo per iscritto no no vabbè l'ho messo per iscritto già quindi è già andato fuori cioè non ci indure in tentazione è la frase corretta non l'interpretazione che ha dato il vicario di Cristo in terra è dura va bene però fin qui è tutto ci sono tre cardinali che hanno scritto e altri una quarantina altri prelati accusando Bergoglio di eresia se qualcuno ha letto queste cose ma sono cose ufficiali benissimo allora noi andiamo avanti quindi dove eravamo arrivati però perché quindi l'annunciazione abbiamo detto qualche cosa Gabriele si presenta Gabriele vuol dire fortezza di Dio la vita si presenta questa Maria qua questa Maria dell'annunciazione e abbiamo lo Spirito Santo che scende fecondata eccetera 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 se volete stare più attenti c'è scritto che lo Spirito di Dio siese in lei nella cavità allora tutti noi pensiamo alla cavità uterina pancia e la parola greca che dice cavità è cavità e trovate più di un pittore più di un pittore che ha rappresentato l'annunciazione con un raggio di luce che entra nell'orecchio sinistro qualcuno l'ha visto uno una l'ha vista due grazie basta lei è di parte ma almeno perché ti chiami come me quindi magari non è detto che sei proprio neutra neutra quindi c'è l'annunciazione normale chiamiamola così classica però ci sono queste strane annunciazioni questo raggio di luce che entra in questa cavità perché il pittore l'ha fatto e noi restiamo lì avrà sbagliato benissimo allora siamo dunque arrivati a questo bambino dobbiamo arrivare a questo bambino e se noi leggiamo il bambino di Luca che è quello che ci interessa di più perché quello poi salomonico muore quando dà il suo io a quello di Luca muore dopo poco tempo senza io non puoi vivere muore e quindi ha fatto quello che deve fare da quel momento il bambino il Natanico diventa sapiente mentre prima chi ha letto un po' di libri dell'infanzia di Gesù era proprio purissimo diciamo non aveva nessuna esperienza terrestre mentre l'altro come Zaratustra rappresentava l'antica sapienza bene allora questo bambino lo facciamo nascere dunque mi prendo il capitolo almeno due versetti devo leggerli perché perché se no ci perdiamo allora Giuseppe salì dalla Galilea verso la Giudea alla gente di Davide che era chiamata Betlemme perché egli era della casa e famiglia di Davide va su al censimento vi ho già tagliato due righe quindi lui sale state attenti che la Galilea è sopra la Giudea è sotto quindi lui sale verso sud non so qua chi è del sud chi è del nord ma difficile che dici se uno della Sicilia dice scendo al nord chi l'ha fatto Bisio l'ha fatto il film ecco ma noi normalmente si sale là e si scende lì non si sa perché però abbiamo deciso che si sale al nord e invece la Galilea è sopra e la Giudea è sotto in mezzo c'è la Samaria quindi c'è scritto sale ma sta scendendo sale per dove andare per andare a Gerusalemme Gerusalemme vuol dire Gerusalemme parola sacra e Betlemme perché era verso la Giudea c'era scritto perché la sua casata era di Betlemme Bet vuol dire casa Lemme vuol dire parola e questo rappresenta il padre allora ricordiamoci certe parole Betlemme è la casa del padre della parola creatrice del padre poi c'è Betania c'è Betfage ci sono tante case e ognuna di queste case rappresenta un punto particolare quindi loro vanno verso Betlemme dove nascerà il bambino Betlemme non ci torna più però Betlemme ci tornerà in realtà quando manderà i due la Domenica delle Palme a prendere quel famoso asino che trova legato ad una soglia in questo villaggio davanti a voi quello è Betlemme e lui salendo su questo asino vi ho detto che gli ebrei venivano dall'Asia asino Asia non sto a aprire tutto questo collegamento ma c'è potentissimo e entra in Gerusalemme nella città sacra entra cavalcando l'asino quindi la forza degli asi si è completata il compito degli asi che era quello di sviluppare questa facoltà particolare per incontrare il mondo dello spirito finalmente si chiude con questa entrata cosiddetta entrata trionfale su cui quando abbiamo avuto tempo abbiamo anche lì messo un po' di puntini su lei va bene allora Giuseppe è il soggetto salì dunque anche Giuseppe questo è state attenti ai soggetti per dare il nome con Mariam Maria è Mariam quindi è lui per dare il nome con Mariam sono sempre io mi porto dietro la moglie no la promessa a lui in moglie la quale era incinta particolare e gli ebrei che erano sempre un po' furboni non ti sposavi così facevi prima il prematrimonio poi aspettavi un anno se quella lì era incinta vuol dire che era incinta di un altro capisci di essere sicuri che fosse noi sarebbe il fidanzamento da noi però era proprio un matrimonio c'era un prematrimonio e poi c'era il vero matrimonio un anno quindi nove mesi abbondanti siamo sicuri che tutto quello che arriva dopo il mio che non è di qualche di un altro quindi la promessa in lui in moglie la quale però era incinta perché l'annunciazione era già prima e divenne che mentre erano lì quindi a Betlemme si compirono per lei i giorni per dare alla luce e diede alla luce il figlio di lei il primo genito chi diede alla luce? Giuseppe che dà la luce ve lo rileggo allora Giuseppe sale eccetera eccetera per dare il nome per dare il nome con Maria la promessa a lui in moglie la quale era incinta e divenne che mentre erano lì si compirono per lei i giorni per dare alla luce e diede alla luce il figlio di lei non e diede alla luce punto e diede alla luce il figlio di lei quindi Giuseppe qui se io leggo l'italiano anzi il greco ha dato la luce ma sono le donne che danno la luce in genere cosa è successo lì perché c'è scritto che è venuto il momento per dare alla luce e lui dà la luce lui perché è lui che agisce dalla luce il figlio di lei il primo genito lo avvolse con spirali fascianti e lo avvolse verso il cielo perché non vi era posto per loro nel luogo della divergenza allora questo è il punto fondamentale su cui costruiremo il nostro lavoro quindi noi abbiamo Maria incinta bene che viene il momento di dare alla luce Giuseppe che lui è il soggetto dice bene è venuto questo momento e dà alla luce il figlio di lei lo avvolse con spirali bende fascianti e cosa ci ha detto e lo alza lo avvolse verso il cielo perché non vi era posto per loro nel luogo della divergenza questo lo vediamo dopo allora cosa è successo quando lo leggi con questa con questa attenzione alla traduzione non capisci niente cioè non è come dire è l'ostetrico qui non capisci cosa è successo diciamo allora torniamo allora alla scienza dello spirito torniamo allo Steiner che dà delle indicazioni poche ma le dà allora il bambino che è nato il Gesù che nasce non è nato un bambino come noi intendiamo nostro figlio o come noi siamo nati è nato come corpo di calore allora qui ci vuole una piccolissima parentesi nell'evoluzione ci tornerà utile per dopo le fasi evolutive della Terra sono quattro la fase antichissima che tutto era calore un'enorme sfera di calore che si chiama antico Saturno a cui seguito una fase di luce che si chiama antico sole io spero qua bisogna un po' ve la devo dare come dogma perché se parlo di questo è finita segue una fase che diciamo possiamo chiamare il termine esatto sarebbe chimismo quindi chimica alchimia capacità ordinativa uso questo termine qua che è la luna antica luna l'antica luna non ha niente a che vedere con la luna di oggi quell'antica luna qui era Marte l'antico sole è Giove adesso nel cielo l'antico Saturno è Saturno e poi siamo arrivati al fisico alla materializzazione fisica e questa è la Terra ecco noi siamo questi qua però abbiamo un corpo di calore un corpo di luce qualche cellula si divide si moltiplica senza impazzire speriamo di no e poi abbiamo un corpo fisico quindi quello che nasce ripete tutta l'evoluzione nasce da qui e quindi il bambino è nato dal seno dal seno il seno è l'insenatura non sono le mammelle chiedo scusa però in genere si pensa al seno abbondante no il seno è questo punto qua questo punto è un punto molto particolare perché quando noi faremo il nostro lavoro spirituale a un certo punto in questo punto si formano come degli uova chiamiamole così dove nascono i fanciulli non è un uovo di gallina ma questo germe da dove nascono i fanciulli quindi man mano che noi svilupperemo nel nostro cammino interiore questa parte diciamo polmoni cuore per adesso chiamiamola così anima nazionale anima affettiva sposo sposa maschio femmina con tutte le dinamiche che ci sono dietro da qui primo fanciullo secondo fanciullo terzo fanciullo nel Vangelo ci sono nove parole per indicare il fanciullo noi abbiamo tradotto tutto fanciulli ma lasciate che i fanciulli vengano a me non era il kindergarten capite perché comincia dai microi fino ad arrivare al terzo settenio loro li chiamano ci sono tanti nomi per dire fanciullo quindi le persone queste parti questa trasformazione che avviene dentro di noi è che vi invito a studiare perché adesso non è non possiamo io devo andare dritto cerco di dare degli stimoli ci passate una vita a studiare tutto però almeno sapete cosa dovevate fare alla fine è già qualche cosa bene allora nasce da questa parte qua quindi se nasce come corpo di calore voi sapete che il calore passa ai muri quindi quello che nasce è una sfera di calore è difficile da pensare perché è difficile tre quarti di voi è la prima volta che lo sentono e quindi pazienza poi ve lo rileggete ve lo trovate trovatevi una traduzione buona non quella della CEI si può dire quella della CEI si può dire andate più indietro che potete più indietro che trovate quello del bisnonno se riuscite ma la traduzione della CEI è stata fatta per accontentare anche i protestanti fare questo economismo per cui taglia qua taglia là taglia su l'aspetto spirituale si è perso benissimo nasce come corpo di calore questo è il compito della madre e Giuseppe l'iniziato Giuseppe colui che cresce in Dio colui che sa diede alla luce prende questa sfera di calore e la dona alla luce perché deve completarsi nel modo sottile questo corpo poi andremo avanti vedremo come si è fatto il Gesù però lui lo dà alla luce dallo alla luce perché quando l'ha dato alla luce alla luce capite non alla luce di così noi cosa abbiamo che in questa luce è sceso qualcosa allora in questa sfera di calore la metto così adesso dato alla luce scende qualcosa quello che scende è lì è il Natale il Natale non è il calore il Natale quando viene dato alla luce perché quello che scende alla luce è in realtà l'essere del Gesù dall'essere del Gesù scende ed entra in questo corpo di calore scende soprattutto come entità Gesù di cui non ho detto ancora niente ma scende quello che si chiama corpo incorruttibile per chi conosce cos'è il corpo incorruttibile quello che poi diventa diventerà il corpo di risurrezione quello che risorgerà la Chiesa ci dice il corpo fisico ma non il corpo fisico di carne questo corpo incorruttibile è fatto come il nostro corpo fisico e ci accompagna dai tempi dell'antico sole i tempi dell'antico sole sono fuori dal tempo proprio non ci sono numeri perché il sole è quello che noi abbiamo il sole per misurare gli anni non c'era quindi se non c'era il sole quanti anni era fa se non c'è il sole non puoi dire quanti anni era va bene allora quando lo dà la luce allora scende il Gesù l'entità che noi oggi chiamiamo Gesù che quella volta si chiamava anima natanica la parte di Adamo non caduta perché non tutto Adamo è caduto per fortuna ma una parte è rimasta protetta preservata nel paradiso poi scende questo corpo incorruttibile che poi diventa lo conosciamo come corpo glorioso ed è quello che risorge quindi si prepara che cosa? la vittoria sulla morte perché il compito del Gesù era vincere la morte chiaro? se no come facciamo a tornare a casa se dobbiamo venire qua a morire? e poi il terzo scende il logos il logos e qui ci vuole Giovanni il Vangelo di Giovanni abbiamo fatto una giornata intera per i primi 18 versetti sul Vangelo di Giovanni il logos la causa prima la causa operante ma non prima come tempo prima come da cui tutto origina capite? primi geni vuol dire tutto origina dal logos nel nostro sistema evolutivo tutto origina dal logos tutto funziona dal logos la luna quando c'è l'eclise è grande esattamente come il sole la luna è un brufolino il sole è un po' grande però tutto viene regolato dal logos i pianeti fino adesso come dire si scrivono ma non si prendono dentro questa grande regia è il logos ma questa grande regia è come organizzare il sistema affinché dentro quel sistema venga qualcosa quello che deve avvenire è che l'uomo conquisti la libertà perché il compito dell'uomo è conquistare la libertà e perché? perché Dio e questa è un'altra cosa che come dire è un po' indigesta Dio evolve dice Dio è perfetto sì Dio è tutto sì e quindi e quindi fa ancora di più perché noi non dobbiamo misurare con il nostro metro Dio evolve e come evolve? trasferendo le sue facoltà le creature quindi a noi dà in dono la libertà e ce la stiamo come dire soffrendo ancora sofferta questo dono no? e il logos è quello che organizza tutto finché noi possiamo conquistare la libertà per conquistare la libertà ci è voluto anche un corpo fisico un corpo eterico un'anima un io gli ostacolatori tutte queste cose qui e tutte queste cose qui benissimo allora a Natale quando andate alla messa di Natale e vi leggono sempre il prologo di Giovanni e non lo commentano mai e quando il prete dice dice che Natale è nato Cristo non è nato Cristo è nato Gesù Gesù è in lui insieme a lui il corpo incorruttibile che è diventato prototipo questo risorgerà questo noi quando riceveremo un atomo di questo avremo attivato in noi il processo di risurrezione e il logos il Cristo arriverà al battesimo al Giordano a 30 anni chiaro? 30 anni dopo quindi c'è una confusione spaventosa e come dice lo Steiner il miracolo più grande è come ha fatto il cristianesimo sopravvivere e te lo dice è un miracolo come ha fatto sopravvivere non si sa benissimo allora Giuseppe dà la luce ma dà la luce con delle fasce capite? la fascia è un vortice ma è un principio ordinativo in modo che si prepari anche l'altra fase e voi sapete che gli ebrei lo sapete lo sanno tutti fanno sempre quei rotolini mettono dei mantra noi diremo giaculatorie oggi delle preghiere le mettono nel muro del pianto le mettono sui ricciolini sulle porte della casa ecco quindi potremmo dire un aspetto mantrico e non è iniziato forse qualche parolina la diceva per proteggere tutta questa discesa ma non c'è un corpo fisico il corpo fisico non c'è ancora siamo nell'etere corpo fisico non c'è il corpo fisico lo porteranno i pastori latte pane latte e lana il pane rappresenta il corpo fisico il latte rappresenta il corpo eterico la lana rappresenta l'anima allora adesso cominciamo a avere il bambino il bambino ma c'è una componente del bambino vorrei dire sottile che come dire è un processo che avviene tra Maria e Giuseppe con queste discese e dall'altra parte poi arriveranno i pastori però c'è un'altra cosa da dire che due volte qui ho letto in alto e volse verso il cielo lo volse in spirali fascianti e lo volse verso il cielo e c'è scritto anche un'altra volta allora noi quando prendiamo il Vangelo c'è scritto e lo pose nella mangiatoia e qui invece io ho scritto io ho scritto scritto non è che ho scritto perché prima di scriverlo ci ho pensato cento volte ma chi sa una parola di greco sa che epi vuol dire epi sopra cioè non puoi sbagliare capisci epi sopra non è sotto e quindi qui c'è un altro di quei misteri di quelli meravigliosi che devo dirvelo perché se no non se ne viene fuori allora immaginate che è dentro una grotta come facciamo questa sia la grotta e volge verso l'alto questi tre verso l'alto c'è una costellazione qua sopra allora la grotta il torace la grotta è il torace e il torace che costellazione è in noi cancro quindi questo siamo nel cancro se io vado in cielo il cancro e lo vedo solo d'inverno quello che sto dicendo c'è un sistema a tre stelle principali lo faccio qui perché non ci sto più queste tre stelle per la cultura caldea babilonese sono la porta di discesa delle anime tutti noi scendiamo per quella porta lì nel cancro e siccome gli ebrei erano stati 700 anni in Babilonia la cultura babilonese anche la conoscevano quindi quando il Vangelo dice pose in alto lo pose nella direzione della costellazione del cancro affinché scendesse quello che vi ho detto allora a riprova di ciò ma lo trovate stasera quando avete voglia di farvi un po' di google qualcosa qua ci sono due stelle più grandi che hanno un nome si chiamano asini e qua sotto c'è una stella grande che è tra le corna di un bue che è sirio e quindi la stella del bue quindi quando dicono tra il bue e l'asinelli queste stelle qui sono il cancro il sistema cancro è fatto così queste tre stelle che viene chiamate anche nebulusa centrale e ha un nome anzi ha tre nomi c'è chi la chiama greppia c'è chi la chiama mangiatoia e i latini la chiamano presepe questo lo trovate voi perché trovate mettete presepe constellazione fate come volete e vi trovate che questo è il sistema del cancro allora questa famosa mangiatoia capite è in alto perché la mangiatoia è questa il sistema mangiatoia sono queste tre stelle detta anche greppia perché poi insomma è sempre quella però in latino l'ha chiamato presepe e quindi siamo proprio arrivati se volete in latino a e presepe con la e testo per fare un po' il latino e basta quindi a riprova di quanto ci stiamo dicendo perché se no è solo fantasticare quindi dentro la grotta dentro la cassa toracica perché ho detto è nato da qui è uscito questo bambino che era fatto di calore è stato dato la luce nella direzione del cancro che si vede nel periodo invernale d'estate non la vedi è dall'altra parte e sono scese queste tre componenti questo è come dire la parte sottile di quello che noi chiamiamo Gesù la parte sottile i pastori pane e latte e lana porteranno le componenti più come abbiamo noi corpo fisico corpo eterico e anima bene l'altro bambino niente di tutto questo l'altro bambino in una casa tradizionale come si suol dire perché era uomo l'altro bambino Gesù Salomonico era Zaratustra quindi uomo reincarnato già reincarnato tutto quanto quindi tradizionale sempre di prima qualità se mi è permesso di esprimermi così però più tradizionale e poi avremo questo incontro come vi ho detto ai 12 anni bene questo penso che possa bastare anche perché il tempo me lo sto mangiando ah sì ecco i re magi i tre re magi ecco vedi che ho dimenticato i tre re magi allora se noi mettiamo questo mi serve per dopo questo mi serve allora cominciamo a costruire l'uomo corpo fisico corpo eterico corpo astrale o anima come preferite l'eterico sono i processi vitali l'anima sono le simpatie le tipatie le passioni le brame eccetera quello che ci frega in genere poi c'è l'io inferiore che lo chiamo e poi se il gesso mi aiuta abbiamo l'io superiore chiamato sé spirituale manas per la cultura hindù lo spirito vitale amoroso il budi e poi l'uomo spirito l'atma questa è la trinità in noi i tre re magi siccome riconoscevano Zaratustra Zaratustra è la stella di Zaratustra e Aldebaran che è l'occhio destro del toro quindi Zaratustra è sceso da questa costellazione quando facciamo astrosofia 11 febbraio quindi prima quindi a parlare cosa vuol dire Aldebaran cosa vuol dire l'occhio destro del toro sono tutte cose che che sono capitoli bene scende da questa stella e questa stella nel senso che come io splende come una stella i tre re magi i tre sapienti vedono Zaratustra scendere e lo vedono scendere attraverso tre congiunzioni planetarie per cui ogni congiunzione chiama un re e si presentano poi a questo altro bambino l'altro bambino che non è che è quello lì l'altro bambino rappresenta questa parte e porteranno l'oro che è il simbolo del sé spirituale e tutti noi abbiamo qualche oro addosso poi porteranno incenso quindi tutta la cultura orientale è per quel principio figlio in noi e poi mirra mirra per il principio uomo spirito quindi l'essere Gesù alla fine si completa nei corpi inferiori nei corpi superiori con il logos con il corpo incorruttibile fatta va bene posso andare avanti è fatta ma la sto tagliando tantissimo la sto tagliando tantissimo però se no non arriviamo al futuro sì non lo dico lo so ma non puoi dire tutto se dici tutto di questo non dici il resto adesso faccio un po' di pubblicità lo trovate scritto dentro questo questo è il testo di riferimento è un certo Enzo boh il Natale nei misteri del tempo vedo che tu sei più bravo di me non arrivavo tanto va bene no ce ne sono quasi 50 va bene allora di Giuseppe vi ho detto vi ho detto Giuseppe che in realtà non era un falegname là di gente semplice ce n'era nessuno erano tutti iniziati e gli apostoli cominciando dagli apostoli non erano pescatori lì bisogna proprio fare un reset di tante cose che ci hanno messo in testa che ci hanno messo in testa tu più semplice sei più vai avanti e va bene se vuoi semplice mi ricordo un amico che abbiamo in Slovenia era in Slovenia che dopo il passaggio del comunismo è tornato di moda a battezzare i bambini prima chi battezzava il bambino andava in chiesa se eri impiegato pubblico tipo maestro o postino venivi licenziato non è che facevi carriera capito poi dopo il passaggio la gente è tornata e il prete allora che prima viveva di serie B ha cominciato a dire ma tu ci credi non ci credi ci credi veramente il nostro amico è andato per battezzare il figlio e il prete gli ha detto ma ci credi ci credi veramente adesso è moda così tutto quanto fa no no io ci credo ma ci credi veramente sì ci credo noi tutte le sere leggiamo il Vangelo no fa no così tanto questo lo dico perché c'è lei forse l'avrà sentito la persona la conosci perché trovi delle incongruenze ci sono tante incongruenze in una tradizione traduzione fatta in un certo modo di cui quello che noi sappiamo è quello che abbiamo sentito in chiesa non so quanta gente si è messa a studiare il Vangelo qua dentro siamo cristiani sulle carte eh boh basta allora abbiamo completato finalmente quest'essere benissimo questo ve l'ho detto e adesso fine di quella storia lì non ci interessa più pardon non ci interessa più poi c'è la vita pubblica e poi ci sarà il Golgotha ma quando parliamo di vita pubblica di Golgotha siamo già nei misteri della luce perché la Pasqua non è più nel tempo è nella luce quando è la Pasqua? no quando è la Pasqua? la prima domenica dopo dopo la luna piena è dopo l'equinozio di primavera allora equinozio luce luce tenebra uguali dopo vince la luce luna piena ci sono due soli c'è il sole più la luce della luna domenica giorno del sole son tag lo sappiamo no? quindi inizia la luce è nel misteri della luce la Pasqua per quello è mobile Natale siccome il misteri del tempo è messo lì che era il 6 però siccome c'è un po' di la vita cambia allora l'abbiamo fatto il 25 mi sembrava bene allora adesso andiamo andiamo tutto avanti e andiamo all'avvento quello che conosciamo come avvento questo possiamo questo lo tiriamo via io spero che resti almeno un po' di tempo per le domande perché è talmente ricco quello che dobbiamo fare che io tiro dritto tiro dritto ma è anche un peccato allora le domeniche di avvento sono 4 e questo lo sappiamo tutti quindi per i misteri del tempo che sappiamo essere legati al numero 7 noi abbiamo 3 4 settimane di avvento ne mancano 3 se i misteri del tempo sono legati al numero 7 le 4 di avvento non è il completamento dei misteri del tempo ne mancano 3 le 3 sono una per arrivare a Capodanno due per arrivare a 6 gennaio e siamo a 6 capite? 4 5 6 non ho ancora che scrivo no? bene e poi c'è la settima che dopo il 6 di gennaio la settima come dire sfuma perché cominciano a prepararsi i misteri della luce capite? quindi sono 6 ben precise di cui è come la storia i 7 re di Roma di cui come era di cui me ne ricordo 6 te ne dico 5 4 è quello che ti interessa 3 2 Romo le Remo capite? c'erano quindi questi 7 gli ultimi 3 li abbiamo persi dalla nostra coscienza gli ultimi 3 sono usciti e conosciamo solo l'avvento guardate che una volta tutto era diverso c'era anche l'avvento di San Michele ai tempi di San Francesco si facevano tanti avventi tante quaresime era diversa la cosa se vi ho detto che i misteri del tempo incominciano il giorno dopo San Giovanni che hanno San Lorenzo come momento fondamentale San Michele ancora c'era l'avvento anche per San Michele tutte cose perse l'uomo si preparava dei momenti come dire importanti noi è rimasto l'avvento quindi queste quattro domeniche e cerco vorrei farle velocemente perché non ce la facciamo col tempo però mi dispiace anche ve lo provo a darvelo in sintesi poi dopo ci sono pagine e pagine provo in sintesi perché sennò non arriveremo mai al futuro che insomma a me va bene guardare indietro però dico vabbè so tutto so tutto di cosa è successo ieri e domani di domani non vi ho certezza bene allora la prima domenica di avvento riguarda che cosa il piano fisico per preparare il piano fisico cos'è il problema del piano fisico il problema del piano fisico è la parte più morta anzi è la parte morta e la parte più morta a noi sono i sensi quindi è un problema nei sensi questo problema nei sensi che se io comincio a avere la vista che non ci vede bene l'orecchio che si perde e soprattutto l'equilibrio io sto seduto e non mi alzo più perché è barcollo allora questa prima domenica di avvento ricorda il primo sacrificio che ha fatto il Cristo per noi di cui noi non sappiamo niente perché non devi sapere troppo il Cristo ha fatto quattro sacrifici per noi il Golgotha è il quarto e adesso sta facendo il quinto l'importante è non sapere perché se sai qualche comportamento lo cambi allora il primo sacrificio che ha fatto il Cristo è dare la stazione eretta all'uomo quando vedete il vostro figlio che ha un anno in cui comincia a alzarsi barcollare cadere rialzarsi camminare dice ah che bravo ha fatto i muscoli no è il Cristo che lo sta alzando non dice dove va il Cristo quando vedi un bambino che si alza e allora la prima domenica di avvento si ripete si ripete ma non sei più un bambino di un anno adesso hai trent'anni quaranta cinquanta quanti che ne hai quindi si ripete questa questa vittoria o questo incontro con queste forze che sono legate al mondo fisico quindi avere un controllo dei sensi e dei nervi essere padrone del proprio sistema dei sensi e dei nervi e questo sviluppa una qualità che se noi dobbiamo dare una parola sola diremo la giustizia trovare il modo di comportarti in modo giusto perché modo giusto vuol dire valutare pesare e per pesare di avere percezioni è bello buono brutto vado non ci vado è pericoloso devo avere dei giudizi per avere dei giudizi devo avere la capacità di percepire altrimenti cosa faccio seguo quello che ha fatto l'altro come stiamo facendo un po' tutti quanti quindi la prima è la giustizia e riguarda il corpo fisico e riguarda la verticalità quello che ci dicono sempre gli orientali l'uomo occidentale deve imparare a non mangiare carne perché puzzi di cadavere ci dicono secondo schiena dritta quindi la verticalità e il terzo meditare però ci basta questo quindi qua io scrivo fisico l'ho scritto scrivo giustizia quindi la prima domenica di avvento ci mette di fronte a degli ostacoli quando si vivono queste cose te ne accorgi molto bene però pensi che sia la vita normale degli ostacoli che ci fanno come dire vivere lo sviluppo di questa qualità adesso cosa siamo ormai alla terza quindi la prima è andata ma l'anno prossimo ci sarà la seconda agisce nel corpo eterico quindi il processo delle abitudini il temperamento colerico flematico sanguinico malinconico il piacere della tavola il piacere dei processi vitali tutto questo ci viene presentato nella seconda domenica di avvento questo qua perché noi dobbiamo cominciare a prendere possesso anche del nostro corpo eterico il processo del corpo eterico si chiama misura e avvedutezza misura nel mangiare nel mangiare si capisce avvedutezza non lo scrivo vado troppo in là tutto questo si trasforma in un'altra cosa non più nella verticalità perché dietro la giustizia è nascosta la verticalità qui c'è nascosto il parlare il parlare il vostro parlare sia come si dice il Vangelo sia sì sì no no ogni parola che dite in più viene dall'altro quindi misura e avvedutezza il vostro parlare c'è nascosto questo dietro chiaro che c'è dietro una pagina qua di appunti adesso io ve la sto facendo breve perché sono già le nove passate la terza settimana di avvento è la prova dell'anima il corpo astrale l'anima e quindi l'anima ha tre facoltà il pensare il sentire e il volere io devo diventare il padrone del pensare sentire volere ha un giusto pensare seguire un giusto volere e la giustazione tutti sappiamo che fumare fa male però continuo a fumare giusto? se continuo a fumare vuol dire che io ho un disordine nella mia anima questo disordine della mia anima mi blocca qua io so che una cosa fa male quindi pensare ce l'ho però non metto in pratica ho capito ho capito ognuno a modo suo qual è lo scopo della vita lo faccio cosa faccio della mia vita? qual è quello che ho capito metto in pratica o mi basta la teoria? se basta la teoria si fermo qua terza settimana di avvento e il resto della strada si fermo lì ma tutti siamo fermi da qualche parte e poi pian pianino hanno inventato la rincarnazione per questo per cui non c'è problema lui è eterno aspetta noi intanto maciniamo quindi questo lavoro nel corpo astrale questo mettere ordine nel pensare sentire e volere che vorrei dirvi una cosa il pensare il sentire e il volere sono rappresentati da sempre con le tre grazie l'immagine delle tre grazie se le vedete quelle del botticelli si danno la mano due così due così e due in basso a triangolo quindi nel pensare nel sentire nel volere è l'anima le tre grazie sono l'anima però queste tre facoltà sono nell'uomo bambino governate da fuori sono governate da fuori da tre gerarchie spirituali il toro e altre l'aquila l'aquila per il pensare il toro e il leone le faccio dai aquila volere toro e leone che cos'è il cammino che dobbiamo fare il cammino che dobbiamo fare lo vedremo ancora dopo è che molto semplicemente queste tre facoltà queste tre attività si spengono noi veniamo lo vedremo nella quarta settimana perché tutto si prepara se io non ho messo ordine qua dentro queste tre si ritirano e io sperimenterò la quarta così faccio già la quarta la solitudine sono abbandonato che cosa fa la vita cosa devo fare non so più niente non capisco più niente perché cosa deve nascere deve nascere la parte superiore il vero io in me che è il Natale e lui da dentro le governerà io devo diventare padrone di me stesso questo è il Natale ma vengo abbandonato dal mondo dello spirito non con cattiveria avviene il momento che dice bambino ormai l'età ce l'hai ma io sto così bene no caro vai 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 a lavorare un pochettino farò vedere cosa vuol dire bene allora per il terzo non ve l'ho detto il terzo era la saggezza no scusa la saggezza la quarta il coraggio il coraggio che ti dà la capacità del pensare questo è il coraggio qua coraggio 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 di affrontare la verità della vita e questo ti dà quel discernimento come l'altro era la verticalità il parlare ti dà il pensare e qui avete il vostro bambino che prima sta in piedi la verticalità poi comincia a parlare e poi comincia a pensare quindi tutto si ripete nella vita dell'uomo solo che un conto è farlo da bambino nei primi 2-3 anni è un conto adesso farlo da adulto perché le cose tornano ciclicamente benissimo quindi arriviamo alla quarta settimana eccolo qua quello che vi ho detto prima la solitudine la solitudine che vuol dire essere soli soli vuol dire sole tu devi diventare il sole devi diventare il sole di te stesso perché il nostro io superiore che è questo qua sta di casa sul sole quando noi scendiamo in terra lo lasciamo là lui non scende in terra scendiamo noi e abbiamo il riflesso di questo nei corpi inferiori lo chiamiamo ego ma lui sta di casa sul sole quindi il cammino è arrivare sul sole che in termini spirituali vuol dire entrare nel paradiso inferiore la beatitudine bene la quarta settimana vuol dire quindi per arrivare a questo punto qua questo punto qua di avere l'io al centro della nostra anima la nostra anima è soggetta ad una legge che è il karma capire il mio karma capire le mie leggi karmiche capire cosa mi viene dal passato una malattia se è karmica o non è karmica quindi il karma questo se non sbaglio era la saggezza sì la saggezza quindi la saggezza intesa in questo senso è la virtù da sviluppare la quarta settimana d'avvento io conosco il mio karma io conosco queste leggi a un sano pensare corrisponde un giusto sentire fumare fa male mio bambino è vicino gli faccio del male anche a lui smetto di fumare è semplice no? non fa quasi nessuno abbiamo un disordine spaventoso nell'anima un disordine spaventoso perché poi ci sono anche le cose che partono dalla volontà la violenza la violenza è la volontà che domina gli altri o certe sdolcinature di sentiero di sentimento vanno equilibrate un triangolo equilatero perché le gerarchie a questo punto ti lasciano tocca a te tocca a te come corre il tempo parlando di misteri del tempo va bene e arriviamo finalmente a Natale perché a questo punto la quarta settimana siamo a Natale Natale vuol dire entrare nel Tempio interiore quello che era la grotta dei Greci no? entri nel Tempio interiore finalmente sei entrato nel Tempio di te stesso mi dispiace saltare tutte queste robe qua va bene e incontri il guardiano della soglia perché adesso siamo alla prova di iniziazione perché se lo facciamo è l'esperienza iniziatica e incontri il guardiano della porta del sole perché l'io superiore vi ho detto sta di casa sul sole questo guardiano è Michele quindi incontri Michele il reggitore delle schiere quello che si era presentato anche ai pastori se vi ricordate i pastori io non l'ho non l'ho riletto ricordate da Natale fa c'erano questi pastori che pascolavano le greggi ve lo ricordate più o meno il passo i pastori in cielo e vi erano nella regione la stessa dei pastori che pernotavano nei campi e custodivano nella notte il loro grece ed ecco un angelo del Signore fu vicino loro e gloria di Signore li circonfuse eccetera eccetera allora la regione la stessa qual era cancro allora tutti i pastori pastori vuol dire anche sacerdote il grece sono le anime che hanno fede chi è di conegliano qua le pecore le chiamano fede allora le pecore allora pastore vuol dire pastore di anime i pastori erano quei sacerdoti che guidavano le anime perché questo è cammino ci sono chi lo fanno quindi nella stessa regione c'erano dei pastori perché se avete dei dubbi a Natale tutti i pastori vanno fuori con le pecore di notte vero vai a farti un giro con le pecore perché si sa mai dice queste qui sono sole lì abbandonate andiamo a fare una passeggiatina no? cioè stanno nella stalla capite che non è pastori pastorizia capite? qui sono tutti immagini di altre realtà però te lo dice e vi erano nella regione virgola la stessa virgola dei pastori e sta parlando del cancro no? di questa famosa mangiatoia bui asinello quindi stiamo attenti quando viene tutto semplificato viene tutto portato a livello materialistico i pastori che vanno a poscolare le pecore notorio benissimo allora noi siamo arrivati qui siamo arrivati sul sole questo si chiama il tempio tempio perché noi qui avremo la contemplazione tempio ci sta dentro nella parola contemplazione c'è dentro il tempo e il tempio vi ricordo che ci sono tre templi uno è facile le tempie le tempio è il tempio dell'io e l'italiano ci aiuta tempie tempio facile il secondo la parola non ci aiuta però il cuore il terzo è il greco che ci aiuta è il perineo perineo che è una parola greca che vuol dire perineos neos vuol dire tempio quindi noi abbiamo tre templi il cuore ci manca come italiano però si può anche capire insomma noi poi che siamo latini i cuore ci togli un po' di cuore benissimo allora noi incontriamo il guardiano della soglia allora chiedo agli amico slovena fino a pochi anni fa il 24 di dicembre che festa c'era sul calendario Adamo ed Eva noi da noi no Adamo ed Eva nel loro calendario c'era Adamo ed Eva quindi i primi e in quella notte nasce l'uomo nuovo e lì c'è un guardiano tu vuoi essere l'uomo nuovo che nasce nei misteri del tempo benissimo c'è un guardiano che ti pesa perché se non sei pronto anno dopo anno dopo vita dopo quindi il guardiano per fortuna perché se noi entriamo impreparati ci bruciamo il guardiano è la protezione e questo è Michele il volto del Cristo qui incomincia una cosa particolare perché incominciamo ad avere vi ho detto che questo è il sole quindi abbiamo entriamo nel paradiso inferiore e incominciamo a cogliere le immagini del paradiso incominciamo questo è già un cammino guardate che ti fai un mazzo tanto fare questo non so se lo fate in 5 minuti un avvento è fatto tutto qua ecco va bene allora tenetevi a mente la parola immagini la parola immagini questo la prossima vita quindi entriamo nel tempio non siamo ancora arrivati qua su siamo qui perdon qui entriamo nel tempio delle conoscenze superiori se no non entri c'è Michele che è il guardiano della soglia e incontri chi incontri? incontri te stesso il tuo io superiore il tuo io superiore vestito in altro modo che al momento si vede sono un po' un po' quelle che erano le tre bestie di Dante un po' è un po' diverso però incontri queste tre entità aquila toro e leone come dei diciamo dei mostri come Dante il leone la la lonza la lupa e leone grazie ma siamo stanchini va bene tu sei arrivato qua attraverso la saggezza hai sviluppato queste qualità e con queste qualità puoi entrare altrimenti ti chiudono la porta per aiutarti per aiutarti allora quando si entra in questo tempio questa è già iniziazione questa è già la piccola la grande ci basta per la stasera c'è da fare un giuramento vi dico queste cose perché tutto il resto era roba che un po' insomma si sapeva c'è da fare un giuramento che io ricordo quando ho letto di questo io questo lo sto un po' pescando nell'antroposofia poi qualcosa anche di mio ma molto molto anzi quasi tutto è Steiner c'è un giuramento per suggellare la nostra responsabilità perché tutti i tesori della saggezza cosmica ci vengono incontro dal momento che sei qui tu sei su una stella e tutte le stelle ti parlano non sei sulle stelle però se uno vuol dirti qualche cosa te lo dice perché sei stella con le stelle poi se vogliono dirtelo te lo dicono se no non te lo sai però tu puoi ascoltare tutto questo mondo superiore allora c'è un giuramento da fare perché tutti questi tesori di saggezza cosmica noi eravamo arrivati alla saggezza attraverso le esperienze nostre adesso diventa la saggezza cosmica si presentano l'uomo e l'uomo li porterà nel mondo perché poi quando sai una cosa qualcosa fai ecco e quindi tutto è affidato alla nostra responsabilità il mondo dello spirito si dà in mano all'uomo e il giuramento è proprio per come dire suggellare questa responsabilità questa responsabilità deve essere ben coscientizzata ossia donare responsabilmente ciò che abbiamo ricevuto quindi vuol dire che le domande si risponde le domande per curiosità non si deve rispondere le domande spirituali le fatte per apertura di cuore che uno vuol fare il cammino devi rispondere a quelle fatte per curiosità che sono tanti le riconosci perché ti fanno una domanda tu attacchi la risposta e ti hanno già fatto la seconda domanda allora a quel punto ah beh sì quella è la terza sono già ecco sono già patentati allora lì non devi assolutamente parlare le perle non si danno ai porci nella parafrasi del Vangelo è questa questo però è un giuramento è un giuramento lo dico perché c'è una responsabilità non da poco bene perché a questo momento tu quando sei qui non sei più questo questo qui il mio io inferiore mi si ricorda cosa ha fatto ieri l'altro ieri c'è una memoria io qui ho la memoria personale quando sono qui entro nella memoria universale cosa è successo quando Cristoforo Colombo è sbarcato in America lo sai perché è memoria universale cronaca della cassa si chiama allora tu entri in un mondo di responsabilità tanta tanta perché è eccesso la conoscenza bene e questa devi saperla amministrare perché se vuoi amministrare questa per farti bello per farti bravo per prendere punti e altre cose paghi tanto 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 il minimo pagare per tre incarnazioni essere fuori dal giro vieni in terra non combini più niente proprio vedi la vita che passa e tu non riesci più a far niente perché io dico sempre il più uno dei giochi anzi uno dei simboli esoterici più alti è il gioco dell'oca quando è natale fatevi il gioco dell'oca il gioco dell'oca con i dadi bene ogni tanto c'è anche la prigione la prigione ogni tanto va in prigione e devi arrivare al centro esatto perché se hai un punto in più torni indietro devi arrivare a 90 se ne è uno in meno resti lì devi arrivare giusto capite non devi arrivare troppo perché il guardiano ti manda indietro e non devi stare neanche in meno capite è il gioco guardate che il gioco dell'oca come i scachi come la dama c'è da sparare o i tarocchi ci vuole una settimana per parlare di quelli non sono giochi il gioco dei dadi il gioco dei dadi quando tiri un dado che punti fai? no un dado sei non puoi far sette ma il completamento è il sette non arrivi mai a sette finché stai nel cubo che è la materia non arriverai mai a sette o c'è l'uno c'è il sei c'è il tre c'è il quattro il due e il cinque vedete che sono polari non arrivi a sette se ne tiri due puoi fare il massimo dodici quindi anche il gioco dei dadi è un gioco che non è un gioco basta non vi dico niente di più quindi noi entriamo nella memoria universale è un altro mondo come dire ero gli elementari e adesso sono l'università ho accesso a altri libri altre conoscenze altre cose e allora c'è questo giuramento lo ripeto per la terza volta che non scappi perché oggigiorno tutti vogliono tutto subito e facile e c'è il gioco dell'oca dico benissimo venite all'oca facciamo il gioco dell'oca quindi la responsabilità di ciò che apprendi quando arrivi lì c'è anche un altro aiuto ci sono due bei bicchieroni da bere che non è l'analisi o altro un bicchierone si chiama la bevanda dell'ublio quindi tu hai la facoltà di dimenticare le cose del mondo basta dimentica ma non mi interessa più ho dimenticato l'altra è la bevanda del ricordo di ricordarti tutto quello che ricevi perché altrimenti come fai a ricordarti certe cose perché hai questo dono si chiama così non l'ho chiamata io la bevanda della memoria quindi hai la forza la facoltà di ricordare le comunicazioni le immagini i pensieri spirituali che ti vengono dati perché è infinito quello che ti viene dato quindi come fai a ricordartelo o giri sempre con una biblioteca ma la biblioteca hai niente in confronto e lasci quello che ormai non ti interessa più perché è anche importante anche cancellare basta certe cose basta va bene bene siamo arrivati alle nove e mezza vediamo di arrivare quasi al presente quasi molto più vicino a noi questo sono già 40 pagine anche abbondanti faccio quel che posso arriviamo a noi allora in noi adesso si accede un'altra possibilità l'uomo di oggi può accedere un altro rapporto con questo discorso l'altro rapporto sono quelle famose tre settimane che mancano le quattro settimane dell'avvento sono chiamiamole così storiche sono come le quattro virtù come no le teologali sono le tre di sopra cardinali le quattro cardinali e le tre le tre teologali allora le quattro storiche l'avvento c'è da duemila anni va bene però ci sono queste tre adesso noi possiamo entrare in queste tre ma non adesso da oggi già da un po' però queste tre sono altre tre settimane quindi questo è il 25 di dicembre questo è più o meno quindi si entra qua questo abbiamo come riferimento il 31 e questo il 6 come riferimento più o meno e quindi entriamo in questo periodo che sono le 13 notti sante ecco questo è uno dei segreti diciamo della conoscenza superiore che è già entrato per chi ha voglia di studiare chi ha voglia di fare è già entrato nella vita di qua è divulgato quindi deve entrare in queste notti e adesso ci entriamo quindi arriviamo già a un presente attuale e poi vediamo cosa accade domani nel senso un presente un po' più che guarda davanti se no allora salto tutto salto tutto cosa vuoi fare allora noi durante queste notti sante noi cominceremo quella prima notte che è tra il 24 e il 25 ad agire con il nostro sé spirituale perché abbiamo fatto il cammino magari abbiamo solo un balbettio di io superiore l'io superiore normalmente ci viene a trovare quando va bene 5 minuti al giorno noi stiamo dell'io inferiore comodi e alle volte quasi neanche quando ci facciamo dominare dall'anima lo ricordo perché è un po' nuovo c'è una parola che indica tutto questo che è la parola volere c'è il verbo volere quando io dico ho voglia di è l'anima che comanda quando dico io voglio è l'io che comanda ho voglia di gelato è l'anima io voglio fare un cammino e non è là l'anima non vuole fare il cammino l'anima si ferma alla gelateria cioè dove vuoi andare guarda qua c'è la gelateria è tutto pronto dove vuoi andare allora lo fanno ai 100 gusti quindi state attenti a questo perché scusate dalla bocca vi verrà fuori la verità quando voi avete una voglia è l'anima quando volete siete voi volli fortissimamente volli ve lo ricordate Alfieri Vittorio legato alla carega per dirla in termini nobili volli fortissimamente devi importelo quando noi abbiamo che l'io comanda sull'anima l'anima sull'eterico l'eterico sul fisico l'io comanda sui sentimenti sui desideri sulle brame che a loro volta indirizzate le famose tre grazie comandano sulle abitudini sulla memoria sul temperamento che comandano sugli istinti questa nei Vangeli è chiamata la verginità non state pensare quando si parla delle vergini che queste vergini non le vergini speriamo che abbiano altri pensieri questo è un po' un altro tipo di cultura quindi la verginità è questo stabilire questa gerarchia noi abbiamo normalmente una gerarchia rovesciata l'istinto comanda fame sete riproduzione quale cose si fanno abitudini basta abbiamo finito per non parlare di altro quindi questo è chiamato la verginità allora cerchiamo di farlo in un modo che si capisca qualcosa allora prima è il mio poi le faccio una per una però vi do la visione vediamo questo prima è il sé spirituale che agisce prima notte seconda notte terza notte quarta notte quando sono arrivato sotto allora è il mio spirito vitale amoroso colore non aiuta spirito vitale amoroso che ricomincia da questa sale su sale su e sale su e poi alla fine sarà l'uomo spirito che incomincia da quella che abbiamo fatta per ultima sempre da questa a questa a questa a questa forse vi ho complicato ma è come dire un passaggio allora prima scendo l'isè superiore incomincia con quello più vicino l'io inferiore capite più vicino e poi scende scende per questa verginità a questo punto sei arrivato qui come una stafetta passo la mano lo spirito vitale amoroso che sarebbe il cristo in noi e lavoro 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 arrivato qui l'uomo spirito subentra 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 io ho tre volte la rifusione dei miei corpi tre volte queste sono tre per quattro sono dodici notti le notti sono tredici ve lo spiegherò tra un momento fin qui si capisce un po' di difficoltà ma magari detto così se ci pensavo vi facevo almeno la fotocopia della tabella finale questo aiuta molto perché questo siamo già nelle facoltà dell'oggi non siamo più nell'avvento diciamo così alberetto di Natale presepino voi capite il presepio presepio non è quel presepio lì capite che è proprio una caduta questa poi va bene per il bambino va bene perché il bambino cosa gli so spiegare però l'importante è che noi da adulti sappiamo come dire che è un'immagine terrestre di un'altra realtà e magari cerchiamo di fare gli asinelli il bue cerchiamo di farlo che corrisponda alla costellazione del cancro due eh sì bisogna metterne due sì sono due si chiamano proprio asini sapete guarda che quando l'abbiamo trovato non ci credi ma come due stelle che si chiamano asini sotto il bue fa impressione e quella si chiama greppia o mangiatoia o presepio ti sedi e dici vabbè ricominciamo ricominciamo ti restituisco il battesimo ricominciamo da capo e vediamo come va avanti bene allora qui con pazienza quindi siamo arrivati alla notte tra il 24 il 25 la famosa mezzanotte il sole in vitto e quella è l'esperienza delle ariete perché adesso devo farmi tutto lo zodiaco capite noi abbiamo fatto l'evoluzione sempre detto l'evoluzione dell'antico saturno antico sole antica luna terra adesso sono tornato su e non sono più nei pianeti ho passato la porta del sole e vado sullo zodiaco ho passato la porta del sole e questo è lo zodiaco cherubinico e questo è quello serafinico capite torno a casa il primo adam era lo zodiaco ve l'ho già detto quindi io devo tornare qua questo è il primo adam questo è l'adamo e con questi due gradini io torno su quindi questo lavoro ti fa tornare adam ti fa tornare che cosa somigliante quello che abbiamo perso l'immagine l'abbiamo ma abbiamo perso la somiglianza quindi adesso noi faremo il giro dello zodiaco e attraverso le forze dello zodiaco diciamo come dire entreremo nei vari corpi e porteremo determinate qualità quindi la notte di Natale 24 e 25 primo passo ariete quindi l'ariete tutto cominciato dall'ariete l'ariete nell'io inferiore qua spero di non sbagliarmi in questi su e giù ebbene allora da questo primo dialogo chi sono io io sono l'io inferiore o sono l'io superiore arrivo da qua ho messo il piedino sul sole e guardate che ho detto quei 5 minuti al giorno l'io superiore ce l'abbiamo quindi io posso mettermi in punta di piedi e vivere quei 5 minuti quando voglio io è un momento di preghiera di concentrazione chiamatelo come volete bene e cosa sperimento l'autocoscienza non scrivo niente perché mi è impossibile e quindi il mantra quello da ripetersi quel giorno ripeterselo anche più volte al giorno è io sono il vecchio io sono del conto di San Germain che penso più di uno ha letto io sono questo è il primo passaggio io sono chi sono io uomo conosci te stesso e conoscerai sì l'universo il mondo intero è Dio il mondo intero perché questo è mondo è Dio quindi uomo conosci te stesso bene quindi arrivare a comprendere perché entro nella memoria cosmica sto entrando nella memoria cosmica chi sono io una parte di Dio questi due ci dicono così quando lo dice il corpo fisico puoi dire qualcosa d'altro un tubo digerente ma questi due dicono io sono una parte di Dio e come tale andate avanti voi e come tale il secondo la notte quindi tra il 25 e il 26 poi non sto a ripetere tutte le date si capisce è la notte del toro quindi entro nel corpo astrale nell'anima nell'anima ho l'anima affettiva che si manifesta come fantasia morale la fantasia morale anzi prima l'anima affettiva non è volersi bene tutta la notte volersi bene ci sono nell'anima affettiva l'anima affettiva è l'anima creatrice è quella che intuisce quella che crea diciamo ha un livello di anima ma quando quest'anima che crea sale di un livello quindi diventa come dire ispirata la famosa anima che prende possesso delle facoltà spirituali diventa fantasia morale fantasia perché deve avere pensieri nuovi come risolvo questa situazione li ha ammazzo tutti come fecero il deserto lo chiamarono pace come faceva Giulio Cesare o una fantasia morale per superare questa prova la fantasia morale poi diventerà tecnica morale che è un'altra cosa la tecnica morale quando la fantasia morale del pensiero scende nel sentimento e diventa volontà morale quindi tutto un mondo che deve cambiare completamente questo mondo non è di sicuro figlio della fantasia morale quindi la fantasia morale è quella che si ispira alle leggi del vero del buono ed è giusto quello che io faccio è vero? beh è buono? dietro di me nasce del bene? speriamo ed è giusto? problema grosso perché tu puoi dire una verità ma quella persona non è pronta quindi non è giusto vero, buono e giusto mi sembra che c'è un testo che ha il titolo vero, buono e giusto bene a questo punto è il cuore il mio centro a questo punto il mio cuore è il mio centro il mio cuore incomincia a sentire e la frase il mantra è io sento non è più io sono io sento incomincio a percepire un mondo intorno a me questo è l'inizio della terapia lo dico tra parentesi l'inizio della terapia per essere un terapeuta con la T maiuscola devi arrivare qui il tuo io superiore deve lavorare nell'anima devi per iniziare essere un terapeuta se no sei un medico che applica il medico perché si dice sempre il medico che applica il prontuario o l'agricoltore che vede la foto del parassita ma dov'è l'agricolo c'è ancora vivo dov'è eccolo laggiù ehi come va dura stasera meglio andare ad arare fai meno fatica vedi la foto del parassita va al consorzio questo ecco dammi il killer per questo ecco questo non è creatività va bene allora poi scendiamo nel corpo eterico quindi la notte dopo siamo nei gemelli e quindi il corpo eterico è il corpo del chimismo del suono del numero che conosce queste cose e quindi io mi esprimo attraverso il linguaggio mi esprimo attraverso il popolo il linguaggio legato a questo elemento del chimismo questo elemento del suono e quindi e anche del canto e quindi il mantra della terza notte io risuono con chi con queste realtà superiori io incomincio prima io sono io sono poi cos'era aspetta che non vuoi io sento e adesso risuono allora io sono sento ma adesso io divento cassa acustica per quello che sento risuono comincia il dialogo sempre di più andiamo avanti siamo arrivati nel corpo fisico la quarta notte quindi il cancro questa è un'esperienza diciamo di morte di dolore e morte perché il corpo fisico è quello che si è più allontanato da sopra allora in questo momento di morte ti puoi sentire perso e la frase semplice io sto sto nel senso come un guerriero piantato con la lancia così qualsiasi cosa accade io sono qui sono nella morte perché la terra è la morte qui si muore in cielo non si muore qui si muore e io sto faccio il mio compito ma nostalgie dopo non c'è tempo di nostalgie siamo qui qui ho un compito qui devo fare il mio compito ho cominciato a intuire diciamo così la memoria cosmica ho cominciato a comprendere i disegni evolutivi perché queste cose mi parlano sono risciunato in me e io adesso giustizia io sto qua testimone se volete se no potete fermarvi la notte prima tutte cose in gelateria brava queste cose si fanno la sera possibilmente la sera prima di dormire ma anche durante il giorno se te le ripeti non basta tre minuti deve venire il momento in cui senti l'esperienza allora è fatta allora diventa poi una qualcosa di acquisito non basta un anno però lei è acquisito poi lo consolidi quinto adesso tocca lo spirito vitale amoroso ripartire in su va bene quindi il leone questo agisce nel corpo eterico il corpo eterico è una cosa un po' difficile il corpo eterico perché ne abbiamo l'eterico grossolano e l'eterico sottile il corpo eterico quello che a noi interessa adesso stiamo risalendo ci compenetra in un modo particolare il cervelletto il cervelletto è un qualcosa come dire da studiare va bene e dal cervelletto controlla che cosa dal cervelletto controlla quello che è sotto il corpo fisico i movimenti fini movimenti fini sto parlando del Parkinson Parkinson che non controlla i movimenti fini delle mani per quello sarà sempre incurabile perché è una malattia che è dovuta a quando il tuo sé spirituale che è chiamato a fare un lavoro nel corpo eterico perché tutti siamo chiamati o non lo fai bene o non lo fai e allora ma coraggio fai questo lavoro e cominci a mettere ordine perché devi imparare a mettere ordine qui siamo tutti chiamati guarda quanto ce n'è una volta non c'era tutto sto Parkinson perché l'umanità cresce non di numero cresce di qualità quindi sempre più siamo chiamati non abbiamo le risposte perché la filosofia non voglio dire la religione se no poi mi censurano ma la filosofia quello che ci va dietro non ti dà più risposte almeno ebbene allora siamo arrivati chissà dove eccolo qua bene e allora la risposta a questa capacità di entrare nel minuto nel piccolo tutto quanto io cerco la perfezione io il mantra io cerco la perfezione che non è la pignoleria la pignoleria di uno che non ha capito che tiene forza nelle cose pensa che la precisione gli dia la risposta la perfezione non la precisione la perfezione la perfezione è su bene va bene vado avanti sempre con l'orologio che corre sesta notte allora adesso entriamo allora corpo eterico va bene allora abbiamo detto questo qui agiva tramite i movimenti fini abbiamo detto fino al corpo fisico il cervelletto agisce qui nel corpo fisico movimenti fini adesso sono qui nel corpo eterico forse primo ho sbagliato chiedo scusa ma mettete ordine voi allora questa è la vergine il nostro corpo eterico bisogna un po' pulirlo il nostro corpo vitale va un po' pulito non diciamo tanto di più e quindi abitudini temperamento tutte queste cose qua i colerici grande problema che è colerico che è colerico qua dentro uno solo tutti gli altri anche io anche io faccio parte gli altri tre è colerico che rompe è colerico che rompe va bene allora io nasco a nuova vita questa è l'occasione per mettere ordine io nasco a nuova vita dobbiamo nascere bisogna nascere questi fanciulli e io comincio a averle forze settimo la notte spirito vitale amoroso nel corpo astrale questo la bilancia e qui c'è una cosa interessante andiamo avanti allora la bilancia la vita cosmica comincia a fluire nel nostro sentire anima e io ascolto la parola interiore incominciamo a avere la comunicazione col mondo dello spirito posso dire ascolto la parola interiore ascolto la voce interiore questi sono esercizi ma lo conquisti in questa qua nella settima notte la settima notte ci vuole un anno finché torni quindi impegnarsi bisogna impegnarsi va bene ascoltare la parola interiore corrisponde a quella cosiddetta ascoltare la musica delle sfere perché il mondo dello spirito parla può parlare anche in italiano ma io percepisco il tessere questa musica si chiama così musica delle sfere o parola interiore e finalmente arriviamo a Capodanno siamo arrivati a Capodanno Capodanno è la seconda bilancia ecco perché le 12 diventano 13 allora siccome è un punto è la bilancia quindi due piatti e divide che cosa? le due correnti del tempo siamo nei misteri del tempo c'è una corrente del tempo che va in avanti e una corrente del tempo che ci viene incontro per essere qui alle 8 qualche ad uno è partito alle 7 qualche ad uno è partito alle 6 e mezza qualche ad uno è partito alle 8 meno 10 minuti qualche ad uno ha organizzato le cose così qualche ad uno ha fatto una locandina un mese fa qualche ad uno me l'ha chiesto 6 mesi fa capite? noi in realtà ci muoviamo nel tempo ritroso manca un'ora manca due ore manca tre ore manca quattro ore noi consumiamo il tempo che va avanti ma ci organizziamo secondo il tempo che ci viene incontro questo vi inviterei a fare già questo primo pensiero delle qualità del tempo il tempo ha diverse qualità dal dentista io stamattina ero dal dentista e quei pochi minuti una mezz'ora abbondante era quei pochi minuti ecco andate a farvi un giro in giostra e quei pochi minuti durano pochi secondi è chiaro? quindi ci sono delle qualità nel tempo il tempo è una fisarmonica quando si impara si può allungare il tempo quando il tempo si allunga? Antonio questo tu lo sai no quando le fai con amore quando fai una cosa con amore il tempo cresce quando fai una cosa che non ti piace il tempo ti rubano il tempo quindi noi possiamo avere quindi possiamo avere quando dobbiamo fare un lavoro non abbiamo tempo invece che farlo in fretta e furia ci metti amore e riesci a fare in mezz'ora quello che tu con la testa sai ci vuole un'ora e misteriosamente lo fai quello che l'orologio dice in mezz'ora perché tu in quella qualità di tempo metti dentro altro il tempo non è l'orologio qua abbiamo fatto dei corsi spazio-tempo veniamo arrivare al punto adesso non è neanche l'argomento veniamo arrivare al punto che dove non sei uscito dal tempo ma tu sei il tempo io sono il tempo io sono lo spazio io sono la vita io divento creatore alla fine dobbiamo arrivare lì cosa credete che alla fine cosa ci sia il gelato il gelato l'abbiamo già perso per strada alla fine diventiamo su da creature a creatore questo è il mistero i misteri dell'iniziazione sono questi da creatura a creatore passando per co-creatore creatura co-creatore come dire in casa tu hai la bottega in casa tuo figlio o quel che è gli comincia a fare qualche cosina quindi comincia a collaborare co-creatore poi viene in mente e dici ti lascio la bottega io vado in pensione e vai avanti tu e tu fai delle cose diverse perché qualcosa ci mette di tuo bene quindi siamo arrivati alla seconda bilancia questo c'è un momento in cui le due correnti del tempo si incrociano questo è importante perché è il minuto di mezzanotte quello che nella nostra cultura è il cin cin il minuto di mezzanotte allora il tempo che va avanti è il tempo allo spirito del tempo che è un arcai e lo spirito che viene avanti che è un altro spirito del tempo l'arcai quello del 2019 si incontrano in questo momento dove c'è uno spirito del tempo che mette a posto i due tempi come dire due treni diciamo due automobili che fanno così per un attimo tu vedi quello dell'altro finestrino per un attimo è come essere fermi quindi il pensiero che noi facciamo a mezzanotte si realizzerà l'anno dopo perché entriamo nel tempo mettiamo un seme nel tempo a venire e questo si realizza state attenti se chiedete la santità vi danno la santità che vuol dire che vi danno tante di quelle prove ma tante di quelle prove fino al massacro totale finché diventi santo come diceva San Francesco perfetta letizia quando sei massacrato ivi è perfetta letizia questo minuto dura da mezzanotte meno 15 a mezzanotte 15 quindi non è il minuto ripeto funziona funziona tanto non sparate troppo alto posso darvi un consiglio perché i primi anni sparavo alto poi ho imparato a sparare basso questo anno mi basta così va bene questa è una grazia guarda che quanti ne abbiamo davanti ancora di questi capodanni chi lo sa uno dieci venti ma mille no mille se dopo arriveranno quando torniamo quindi investite bene queste notti sante sono proprio come dire il cuore dei misteri del tempo perché noi possiamo adesso muoverci abbiamo la coscienza di cosa accade minuto per minuto in questo percorso e io posso lavorare dentro di me perché le porte sono aperte poi succederà altro queste sono porte aperte le prendi bene non le prendi in pieno perché non è che la prima volta fai tutto anche meglio però questo c'è bene allora il capodanno il capodanno è la seconda bilancia cosiddetta e il mantra è io parlo al mio io comincia a entrare il padrone io parlo al mio io e gli dico al mio io cosa facciamo l'anno prossimo terza volta che ve lo dico guardate che funziona terza volta non sparate troppo in alto no da meno 15 a più 15 dipende quanto roba vuoi fare puoi fare anche una preghiera se vuoi fare libertà però solo solo quella lì e questo è capodanno capodanno capo e gli altri ubbidiscono nel tempo poi ci saranno i misteri della luce che ho già capito che Vincenzo mi farà mi farà fare anche quella va bene e andiamo avanti dai perché dai coraggio allora andiamo avanti passiamo anche questa quindi arriviamo la notte dello scorpione quindi adesso non siamo più tra il 31 e l'1 ma tra l'1 e il 2 e quindi quindi siamo entrati quindi nell'inferiore lo scorpione siamo tornati qua quindi sviluppo una nuova coscienza io sono nel tutto adesso ho passato la porta del tempo io parlo il mio io prima e adesso io sono nel tutto vi invito fate come volete però queste cose funzionano allora mi va bene i romani solo invito i greci tutto va bene però adesso mi sembra che i bambini abbiamo una giovanotta che magari farà meglio di tutti noi e questo qui si chiama dispensa è venduta dall'associazione arca della vita io ho anche il fogliettino che l'ho fatto per me però è proprio secco e questo è il por memoria capisci una pagina chi vuole solo la tabella basta che mi scriva gliela mando per email era un articolo su Albios numero 8 anni fa ed è adesso anche nella dispensa delle 13 notti ed è anche in quella lì quindi è sia il Natale dei misteri del tempo che la dispensa delle 13 notti bene andiamo avanti cerchiamo di finirla perché c'è ancora una cosa da dire quindi adesso arriviamo all'uomo spirito siamo tornati su la porta ora abbiamo aperto la porta dell'uomo spirito il principio padre in noi mi sono perso e quindi inizia il percorso nuovamente questo con l'inferiore siamo qua adesso stiamo facendo questa terzo giro io sono nella contemplazione la famosa contemplazione che avevo detto vi invito a soffermarvi su questo perché noi normalmente abbiamo la preghiera la preghiera è per favore dammi questo questo va bene mi dimentico poi più breve quando c'è il problema preghiera lunga preghiera corta preghiera è chiedere è della pancia è l'anima senziente che chiede poi c'è la meditazione che è qua il cervelletto l'anima cosciente allora i super meditano il popolo prega perché siamo evoluti non la vedo così c'è il centro che è la contemplazione la contemplazione vuol dire stesso tempo e stesso tempio la contemplazione sono tutti e due arrivare alla contemplazione anche guardando solamente un bambino una casa un albero quello che è non ha importanza allora abbiamo tutte e due le facoltà perché se questo è l'uomo questo è il cuore e quindi abbiamo la pancia l'anima senziente l'anima cosciente e qui abbiamo il cuore il centro io mi pongo nel centro non dico di più perché non abbiamo tempo andiamo avanti undicesima notte allora l'uomo spirito lavora adesso nell'anima capricorno capricorno ecco qui nascono i corni i corni vuol dire che il corno rappresenta la nascita delle facoltà spirituali i vaghi i vari la strega amelia di topolino paperino chi era topolino paperino cono il cono è il corno quindi quando una persona fa un lavoro spirituale si trasformano i corpi inferiori e sviluppano questi corni in senso non fisico chiaramente vi ricordo l'immagine del Mosè di Michelangelo coi due cornetti i due cornetti vuol dire l'iniziazione nella materia e l'iniziazione nello spirito sono pochissimi che hanno la doppia iniziazione in genere ce l'hai o nella materia per le cose del mondo o per lo spirito quindi Mosè rappresentato quei due cornetti quindi a questo punto noi cominciamo a sviluppare le corna non fatevi gomitate non fatevi commenti comportatevi bene bene allora per sviluppare le corna come si fa tutto quello che abbiamo conquistato va donato o ricevuto moltiplico ma questo potresti venderlo fare potere e tutto quanto caro che devi vivere però lo moltiplichi e nel mantra io dono parte di me donando cresci tieni ti implodi si capisce penso che sia più che semplice finalmente sta finendo quindi siamo andati finalmente nel corpo eterico siamo qua giù e quindi risvegliamo il nostro corpo di risurrezione il nostro corpo di risurrezione che non è esattamente il corpo eterico però è legato al corpo eterico non è il corpo eterico è il corpo incorruttibile lo risvegliamo e così cominciamo a preparare la nostra risurrezione la risurrezione vuol dire finire il ciclo dell'incarnazione non è più necessario lo farò ancora per aiutare ma non perché è necessario io sono già pulito ma per aiutare io dono me stesso vengo torno aiuto e quindi sono libero io vivo in una nuova luce dice che è la luce del risorto e alla fine ultimo fino al corpo fisico i pesci i pesci sapete che è la costellazione dei piedi la costellazione del Cristo e quindi ho completato il processo della risurrezione io nel tempio del mio spirito il tempio non è più fuori il regno dei cieli è dentro di voi io nel tempio del mio spirito io sono a casa io sono una parte di Dio il primo io sono diceva chi sei tu una parte di Dio lo sviluppi lo sviluppi lo sviluppi io nel tempio del mio spirito il regno dei cieli c'è già dentro solo che va pulito da tutta la polvere che abbiamo messo sopra forme abitudini eccetera 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 e così questo l'ho finito adesso in due minuti vedo di dirvi un'altra cosa adesso voglio parlare del presente 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 c'è una parte invito qualche ad uno che ha studiato antroposofia a dirmi se sbaglio o almeno farmi un piccolo cenno di sostegno la terra evolve sì la terra evolve la terra è un essere spirituale c'è un io c'è un'anima c'è un corpo eterico c'è un corpo fisico la terra evolve perché l'impulso che ha portato il Cristo duemila anni fa è anche per la terra non solo per noi quindi tutto evolve la terra evolve si trasformerà in una sfera di luce sole il sole si spegnerà la terra diventerà il nuovo sole c'è tempo tanto tempo tanto tempo però abbiamo detto che quando un processo evolutivo è arrivato a metà si prepara quello nuovo cioè quello nuovo è incominciato quindi adesso da questi pochissimi anni pochissimi è iniziato il processo di sviluppo della terra sole quindi adesso questo guardiamo avanti ma lo sviluppo della terra sole anche se ancora piccolissimo si sta manifestando sotto forma di immagini viventi di parole viventi e di azioni viventi se noi riusciamo a cogliere immagini viventi parole viventi e azioni viventi ho detto se noi riusciamo a cogliere ma sono stato impreciso noi le abbiamo già accolte le abbiamo già accolte di notte non lo sappiamo ma dentro di noi ci sono già tutte queste forze chi più chi meno chi va a letto e quando va a dormire si fa l'ultimo bicchierino un po' di meno chi va a letto con la pancia piena di pasta asciutta un po' di meno dovremmo andare a letto almeno cenare non dopo le sette di sera andare a letto con la pancia vuota già digerito anche bere perché di notte succedono delle cose se il mio corpo è costretto a occuparsi della digestione io risuono potete fare a meno di dirlo io risuono col mio ombelico quindi la vecchia regola di cenare leggero o addirittura di quasi non cenare è d'oro d'oro noi siamo a Mangioni ricordo quando facevo i corsi a Napoli si finiva alle 11 di cera e adesso spaghettino per tutti che vuol dire fare mezzanotte l'una ecco noi dovremmo sì infatti se c'è nonna lo fanno gli altri e tu vai a dormire parli con lo spirito del tempo e poi ti riempi la pancia va bene io ve la dico poi fate come volete quindi si sta preparando questo molti chi più chi meno hanno ricevuto queste immagini molti io penso che qua dentro tutti o quasi tutti e noi non sappiamo cosa abbiamo ricevuto perché la regola è questa devi fidarti non è che ci metti 100.000 euro devi fidarti che cosa è la sera quando vai a dormire queste sere offri al mondo dello spirito le immagini ricevute quali? quelle che mi hai dato tu e quali sono? me le hai date tu lo sai tu no? non devo dirti io quelle che mi hai dato questo bisogna avere fiducia farlo fino al 6 di gennaio per quando cominceranno le settime la settima settimana e dopo tutto comincerà a diventare manifesto io vi dico che questo sta accadendo e c'è bisogno che gli uomini partecipino perché il mondo dello spirito non fa tutto il mondo dello spirito prepara sostiene aiuta ma chi è sulla terra siamo noi siamo noi che abbiamo i piedi per terra quindi noi abbiamo questa possibilità responsabilità questo ci tenevo arrivare perché questo è il presente presente perché vuol dire in realtà sarebbe già da 5-6 giorni che questo è attivo ma vabbè il tempo è una fisarmonica bene io avrei finito corri 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 non so come saltando una marea di cose però avrei finito se c'è qualche domandina breve breve corta corta sì eh fallo il giuramento ha chiesto il giuramento vuol dire l'impegno solenne a non tradire quello che ci è stato dato perché tutto viene dato gratis gratis vuol dire per grazia grazia vuol dire amore operante noi riceviamo per amore e dovremo dare per amore per amore vuol dire senza interesse questo non è difficile da pensare se io lo faccio per interesse vuol dire che non compio un'azione libera lo faccio per interesse non per libertà se lo faccio per interesse non sono libero e se la mia mette la libertà ho fallito amore per amore facile a dire non facile da fare siamo qua mi sembra tutti in un corpo di carne quindi sta puntata ce la raccontiamo ancora in corpo di carne magari fra avanti ancora uno qualcosa e se no ah io sono anche felice non lo so abbiamo fatto quello che si poteva l'argomento è finito avete capito se chiamate parlare dei misteri del tempo sono due tempo e spazio c'è chi come suo destino sono proprio correnti spirituali chi è più legato ai misteri del tempo e quindi con la sua adesso dico una cosa che forse farà male a qualcuno con una degenerazione oggi oggi che è il misticismo il misticismo era il modo corretto fino a 500 400 anni fa il misticismo è l'esaltazione della via interiore capito o io mi ritiro prego 100 rosari al giorno quello che è sì è la natura che le aiuta cioè noi abbiamo delle responsabilità abbiamo inquinato velenato non sto a parlare di questo che lo sapete tutti bene ma a un certo punto il nuovo mistico si rimette le maniche fino qua e si le sporca le mani perché bisogna aiutare gli altri regni perché quando la salvezza chiamiamola così tu non ti salvi se c'è uno rimasto indietro o tutti o nessuno perché abbiamo tutti un unico corpo quindi la pianta il terreno la montagna trapanata le montagne trapanate pensate alla montagna come contenta sia stata trapanata o un fiume incementato e non dico di inquinamento dico proprio di queste cose bisognerà fare delle cose bisognerà fare delle cose questa è la tecnica morale che è urgente perché il mondo sta andando un pochino come dire in discesa senza freni bene chi è sensore non ho capito ah vabbè continuo a non capire però vabbè mi adeguo proprio non ci arrivo con l'orecchio bene prego è scorpione perché lo scorpione è la caduta dell'aquila sì la terza costellazione toro leone è lo scorpione lo scorpione è l'aquila caduta però se ci pensi bene l'aquila vola lo scorpione è acqua quella poi quella è l'altra storia che ci sia ognuno lo dice dove sia nessuno lo sa l'araba fenice quindi c'è stato un cambiamento nelle costellazioni costellazioni di acqua e di aria si sono scambiate di posto come forze però questo sempre febbraio febbraio parleremo parleremo faremo tutto questo saremo vicino a Forlì perché tra Faenza e Forlì non so mai qual è più vicino benissimo non la faccio caro perché lui non posso dirgli di no perché abbiamo deciso che noi due non ci diciamo di no con Vincenzo a lui non posso dire di no è stata storia perché abbiamo deciso che ci diamo una mano non c'è due senza tre ma l'ho già fatta queste cose e adesso c'è la dispensa c'è il dispenser ragazzi andiamo a dormire spero di essere riuscito a fare qualcosa scusate i limiti e buon Natale ecco buon Natale salvi salvi com'è